Ieri mercoledì è stato inaugurato il nuovo posto di controllo per i militari di strade sicure nel centro governativo polifunzionale di Pian del Lago. La struttura ha ricevuto la benedizione da parte del vicario del vescovo di Caltanissetta, Monsignor Anofrio Castelli. Presenti le più alte cariche istituzionali, civili e militari del capoluogo nisseno, dal prefetto Chiara Armenia al questore Emanuele Riciferi. Presente anche il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, il colonnello Longo e molti altri rappresentanti delle istituzioni. Un nuovo presidio che va a rafforzare ulteriormente il sistema di vigilanza e che renderà più agevole il lavoro per i militari della Brigata Aosta, che già dà supporto nel proprio servizio e vigilanza da sempre coordinato dalla questura di Caltanissetta. Potranno così identificare più semplicemente e controllare in modo più agevole l'ingrazo di tutto il personale che accede alla struttura, effettuando un potenziamento fondamentale. Il raggruppamento Sicilio-Occidentale, su comando del reggimento Lanceri di Aosta di Palermo, si avvale del supporto dei militari del IV Reggimento Genio della città di Caltanissetta e provincia, ed opera in concorso e, congiuntamente con le forze di polizia delle province di Palermo, Trapani, Caltanissetta e Grigento, compresa l'isola di Lampedusa, ed ha compiti di presidio delle infrastrutture strategiche, come il centro di Pian del Lago. Grazie a tutti.